Sulla via dei Fontanili, ovvero delle Risorgive, al confine fra il comune di Sarmato e di Castel San Giovanni, all'altezza della centrale La Casella, c'è il bucone della Mezzana, ovvero una Risorgiva che prende il nome dalla casina presso cui si trova. È una piccola pozza lacustre circondata da alberi di vario genere che la provincia e il servizio forestale hanno provveduto ad indicare. Sul lato oest della buca una piccola panchina invita a sostare. Il bucone della Mezzana è una delle tappe del percorso cicloturistico sulla riva del fiume Po, tra i comuni di Sarmato e di Castel San Giovanni. Ecco, noi siamo qui.